buonasera benvenuti alla giornata internazionale della donna organizzata dal circolo di udine della ua e benvenuti a tutti e un caro saluto a tutti i partecipanti a fabiana che è la nostra relatrice di oggi e ad angelo della gilda tv che ci fa l'onore di trasmettere in diretta di hanno questa nostra conferenza noi luar di udine ha organizzato negli anni vari appuntamenti sempre che riguardavano l'importanza e il ruolo della donna sia con singole parlando di singole attrici del della del dell'universo femminile sia parlando di movimenti o di varie o proprio di gruppi noi negli anni abbiamo parlato di margherita hack la nostra amata presidente alla quale abbiamo anche dedicato la sala della nostra sede di udine di via cividale abbiamo parlato di eh Mary Wartley Mordagu che è stata eh la scoprite una diciamo una mh scopedrice del bacino contro il vaiolo abbiamo parlato del libro abbiamo avuto la presentazione del libro di Raldo Giulianelli Maledetta Eva che trattava appunto l'argomento donna mal trattata nelle scritture eh nelle scritture sacre chiaramente noi essendo un'associazione che tutela diritti di ate e agnostici abbiamo un occhio di riguardo sotto questo aspetto soprattutto per le donne e tra l'altro un altro argomento che abbiamo trattato è stato il la donna strega la famosa le streghe come sono originate come si è evoluto il binomio donna strega soprattutto nel nella parte diciamo eh proprio eh fideistica ecco e mh questa cura del professore dello psichiatra Beppe Merenda oggi abbiamo in ospite la dott. Fabiana Cioni che eh l'argomento tratta un argomento molto molto caldo molto sentito di cui eh credo si conosca poco per o perlomeno al di là delle persone che sono particolarmente interessate a questo argomento o al di là di situazioni gravi che capitano come eh bombe morti stragi non si parla mai della della questione kurda quindi parliamo delle donne del movimento eh delle donne kurde un movimento che ci come ci spiegherà appunto la dottoressa Cioni lotta per la propria libertà lotta per l'emancipazione della donna per la difesa dei propri diritti e quindi ci è sembrato non utile ci sembra proprio necessario eh trasmettere fare un inter fare una una conferenza un incontro su questo argomento nella giornata internazionale della donna giornata internazionale che parecchi chiamano festa la festa della donna io credo che la festa sia ehm particolarmente riduttivo perché purtroppo abbiamo visto che tante situazioni questa per le donne non è una festa è per cui parlare di giornata internazionale ritengo che sia assolutamente necessario non parliamo di festa della donna la festa sono le mimose che vengono date che fanno piacere alle fidanzate le mogli ma la giornata internazionale riveste una una caratteristica più importante quindi è una giornata che ricorda il tanto il sacrificio di tante donne lavoratrici soldato come vedremo oggi con la dottoressa Cioni e che deve che ricorda che porta l'attenzione su su questa situazione sulla condizione femminile io eh non mi dilungo più di tanto a presentare perché le mie parole sono sempre così abbastanza inutili e eh darei subito la parola a Fabiana Cioni che si fa una brevissima autopresentazione e poi entra in questo argomento che ripeto eh per molti sconosciuto ritengo che sia per molti sconosciuto o per lo meno non eh conosciuto come dovrebbe essere viene considerato lontano viene considerato di un popolo che ci riguarda relativamente però poi è sempre è sempre una questione di diritti e l'UAR difende a tutela dei diritti delle minoranze dei diritti delle donne dei diritti di chi civili e dei diritti politici per cui eh riteniamo che questo sia un argomento che vada trattato nella nelle indicazioni eh anche della nostra associazione. Io vi saluto e vi auguro un ascolto e passo la parola a Fabiana Cioni. Grazie. Eh buonasera a tutti e a tutti e ringrazio Michelangelo per l'introduzione e io sono e anche UAR ovviamente per aver organizzato questo momento di condivisione insomma di approfondimento su la lotta che sta portando avanti il movimento delle donne kurde perché nel giorno non tanto della festa della donna ma proprio della lotta internazionale delle donne credo che il movimento crede il movimento sia dell'aspetto internazionale delle lotte e in particolare di quello delle donne perché costituisce la base per creare una società democratica quindi è una lotta quella delle donne kurde che è in proiettata verso l'umanità verso anche la biosfera cioè non considerando l'umanità proprio completamente integrata nella eh nell'aspetto ecologico di cui tendiamo a perdere no a considerarci un po' come elementi estranei all'ecologia ci occupiamo di ecologia così in eh momenti tragici però in modo tale da non risolvere concretamente i problemi e anche ecologici io sono sì architetto sto facendo una ricerca sulla sul confederalismo democratico sulla possibilità quindi concreta che eh le comunità locali eh riescano a portare avanti una democrazia dal basso quindi ad autodeterminarsi nelle scelte del territorio però sono soprattutto eh perché sono soprattutto attivista in solidarietà dei diritti umani e in solidarietà del movimento kurdo in generale da diversi anni ho avuto l'occasione di fare diversi viaggi sia in varie parti del Kurdistan e diciamo appena inizio la presentazione diciamo stasera cercherò di offrire di offrire se un po' di elementi eh di riflessione di approfondimento che ci permetteranno mi auguro anche di aprire un dialogo eh di poter mh attraverso le domande e a poter approfondire poi degli aspetti che interessano le persone che le donne e gli uomini che stasera si sono collegati e mh quindi cercherò di innanzitutto eh collocare il Kurdistan nell'aspetto nella sua nella sua geografia cioè dove si trova il Kurdistan perché dalla geografia del Kurdistan possiamo anche capire eh alcuni elementi che fanno parte della eh della riflessione poi del paradigma del nuovo paradigma del cosiddetto nuovo paradigma eh che si è dato il movimento di liberazione kurdo e all'interno del quale sta in completa autonomia anche il movimento delle donne perché e quindi se mi aiutate con la con la proiezione della mappa inizierei subito dalla dove si trova il Kurdistan e da dove ha origine la questione kurda perché il Kurdistan occupa una eh poi massimiliano puoi mandare la gentilmente la mappa ah devo condividere io e beh allora pensavo fosse aspettate perché il Kurdistan si trova ehm diviso si trova diviso in quattro stati attualmente a seguito della è una regione che faceva parte del ehm scusate ma eh comunque non ora non trovo più la pagina eh è la è una regione che si trova eh che faceva parte prima dell'impero ottomano quindi è stata e all'interno dell'impero ottomano eh alcune regioni del Kurdistan avevano molta autonomia quindi eh veramente una un'autonomia che ha permesso anche il mantenimento delle caratteristiche eh linguistiche eh culturali in generale e delle anzi delle culture che abitavano e che abitano eh quel quella regione a seguito però della caduta dell'impero e dell'intervento insomma con la nel 1900 dopo la prima guerra mondiale con ehm le potenze europee hanno coloniali diciamo hanno eh suddiviso il Kurdistan in quattro stati quindi attualmente il popolo kurdo è diviso in cioè attualmente dal 1923 è dal che si ha questa situazione eh si trova la parte nord del Kurdistan si trova nel sud est della Turchia ed è la parte più ampia come territorio anche come eh quantità di popolazione eh una parte la parte diciamo e si chiama Bakur i kurdi la chiamano Bakur perché indica alcuni è un termine che indica proprio la direzione eh Rojava invece è si trova al confine con la Turchia è nel nord est della Siria nord est sì e il Bashur invece è ricompreso all'interno dell'Iraq mh una parte del Kurdistan sta in Iran anche una parte ehm la parte estrema e orientale mh questo non è stato creato a caso questa scomposizione della regione kurda non è stata eh e quindi anche lo smembramento proprio del popolo non è stato fatto a caso perché ehm dalla sua eh dalla sua formazione cioè dal dal smembramento del Kurdistan dalla formazione dei degli stati in azione praticamente eh si è creata la questione kurda analogamente a come è nata quella palestinese però non entrerei nel merito perché poi le differenze sono molte per avere a disposizione un luogo instabile all'interno del quale siamo sicuri che scontri e conflitti armati o non armati comunque eh sì e soprattutto armati si sarebbero eh scatenati ed infatti quello che noi purtroppo eh recentemente negli ultimi anni eh eh stiamo abbiamo visto in eh eh sia in Bakur quindi nel nord della del Kurdistan e quindi all'interno della Turchia ehm l'oppressione ha avuto livelli ehm sta avendo proprio livelli ehm molto gravi perché la società civile è colpita in modo drammatico dal momento che i politici sono stati messi quasi tutti in carcere, giornalisti sono lo stesso eh detenuti, il femminicidi da parte di Erdogan o meglio diciamo più precisamente è proprio una politica femminicida di Erdogan così ha definito il movimento kurdo e condivido pienamente questa eh definizione della politica eh della Turchia portata avanti da Erdogan perché eh miratamente l'oppressione, l'azione militare eh contro le donne anche disarmate è proprio specifica. Questo avviene sia in Turchia ma la mano di Erdogan arriva anche in eh Rojava. In Rojava la situazione eh si è evoluta diversamente perché a seguito della delle primavere arabe eh la il popolo kurdo è riuscito quindi dopo il 2012 a mettere in piedi una autonomia democratica una federazione proprio autonoma eh senza la prospettiva dello Stato con alla base una un un contratto sociale che è molto interessante penso anche dalla prospettiva del dello UAR perché eh definisce il definisce le modalità il le modalità sì le modalità con cui la società si ricostruisce con una prospettiva di riconciliazione. Questo significa che nessuna etnia eh prevale sull'altra e eh quindi nessuna eh non non c'è una c'è una sostanziale laicità della costruzione democratica perché tutte le religioni possono essere eh espresse c'è il diritto di esprimere di seguire la propria religione non c'è l'obbligo come perché sono territori quelli di Rojava che hanno subito la l'occupazione Daesh quindi significa lo Stato Islamico e significa la Sharia significa che Kobane per un certo periodo cioè tutti tutte le città Kobane probabilmente è quella più conosciuta perché ehm ci sono stati c'è stato il fumetto di Zero Calcare che sicuramente ha contribuito a diffondere la la conoscenza appunto l'esistenza di questa sia di questa città e della sua estrema resistenza contro l'occupazione Daesh però eh Daesh si è diffuso in tutta la regione tutta la regione delle Eufrate mh il Kurdistan è la regione dei due fiumi è la Mesopotamia è al nord ci sono le montagne in Rojava c'è la la pianura la fertilissima pianura eh compresa appunto tra i due fiumi e ehm dentro a questo piccolo perché tutto sommato non ha una grande estensione Rojava però è ricchissima di diversità eh linguistiche di diversità religiose di culture diverse e non c'è nel contratto sociale c'è la mh espressa eh espressamente proprio la la volontà di mantenere le caratteristiche che ciascun individuo si sente di seguire e questo è molto importante perché non la diversità in nel confederalismo democratico che è la proposta di Abdullau Jalan che è il teorico appunto del confederalismo democratico ma è stato anche uno dei fondatori del PKK cioè del partito dei lavoratori del Kurdistan eh e che si trova in recluso in carcere dal 1999 all'interno del carcere di estrema in una condizione di estrema eh isolamento perché per molti anni non c'è stato neppure un altro detenuto in quell'isola in Rali è un'isola di carcere e ha riuscito a mantenere un collegamento concreto con eh sia il movimento per quanto fosse isolato ma soprattutto con eh intellettuali leggendo avendo l'opportunità di leggere eh per esempio eh dal cui è stato fortemente influenzato e ehm e quindi nel paradigma del confederalismo democratico la diversità la ricchezza umana delle diversità culturali è parallela alla diversità è considerata in modo eh positivo e appunto come energia eh come potenziale sociale allo stesso modo con cui si guarda eh un biologo guardando gli ecosistemi osserva che la ricchezza degli ecosistemi sta nella diversità delle forme di vita che in esso eh trovano l'habitat no? e non è semplice da attuare in un contesto di guerra perché i traumi che le persone hanno sono eh non solo fisici ma sono anche psicologici dell'oppressione appunto della sciaria io ho avuto l'opportunità di andare a Racca a Racca eh che è in Siria eh che è in Rojava ora oggi è sta dentro la confederazione dell'autonoma della Siria del nord ma ci sono stata appena pochi mesi dopo che era stata liberata e l'oppressione oltre alla distruzione fisica ma anche l'oppressione si sentiva le donne in giro c'erano pochissime persone ma le donne non c'erano ancora in giro perché le donne durante la eh la dominazione di Daesh avevano l'obbligo di stare in casa eh non potevano uscire da sole sostanzialmente rischiavano molto e quindi la la diciamo l'apertura l'apertura sì l'apertura la società democratica del confederalismo democratico è eh una dovrebbe smuovere le coscienze del di noi occidentali noi donne e uomini occidentali perché eh per esempio un fiorentino e Valteco Scherr eh cioè Lorenzo Orsetti ha perso la vita per combattere per i valori della società democratica valori che sono assolutamente diversi è una società radicalmente diversa da quella dove noi viviamo da quella che ci tra virgolette ci colonizza ogni giorno e si prende anche l'otto marzo cioè si prende l'otto marzo nel senso svilisce una festa una festa di lotta internazionale a un contenuto commerciale delle mimose della eh pensiamo alle donne oggi in modo che domani almeno si possa pensare a altro ma senza affrontare niente della questione delle donne perché la questione delle donne eh le donne kurde hanno imparato bene le donne del movimento kurdo sanno bene che eh il problema delle donne è un problema radicato nelle società è radicato certamente nella società medio orientale ma è radicato anche nella società in modo diverso eh con le sue peculiarità con le sue diversità con un'estetica diversa però è radicato allora la domanda e e il movimento delle donne kurde si è posto questo problema di analizzare l'origine dell'oppressione delle donne perché entrando a far parte del PKK quindi dell'organizzazione del partito che a un certo punto ha deciso di armarsi e e le donne hanno partecipato hanno partecipato hanno iniziato a partecipare alle eh armate no nelle militi nel 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 partito e ma hanno si sono resi conto che oltre a combattere contro l'oppressione di uno stato dello stato nazione erano anche tra virgolette costrette però avevano di fronte anche il compagno di lotta che rimarcava la diversità delle donne eh questo non è un lavoro da donna cioè fare la guerrigliera non è una eh un lavoro da da donna la comandante tanto meno per cui le donne si sono all'interno del movimento kurdo eh si sono rese conto che prima di tutto dovevano analizzare l'origine di questa oppressione di questa mentalità che poneva pone la donna eh in una sfera diversa e purtroppo questa sfera è una sfera che oggettivizza la donna quindi la donna ha perso la sua eh quando la domanda è allora quando la donna ha perso la sua il suo essere umano le caratteristiche dell'essere umano è stata ridotta a oggetto quando la donna è stata eh è stato deciso che la donna era debole che la donna non poteva eh non ha le capacità astratte eh quindi non ha l'intelligenza astratta dell'uomo quando tutto ciò come tutto ciò si è sedimentato quando tutto ciò ha avuto origine ecco il movimento delle donne kurdo in modo testardo si è eh concentrato su questo e ha capito molto presto che l'autonomia la l'autonomia delle donne è un fattore essenziale cioè eh è per questo che ha sviluppato all'interno del movimento anche del PKK ehm PKK ha sviluppato la propria autonomia ha creato un partito delle donne ha creato poi le mili una eh la sua formazione militare e donne guerrigliere come Sakhinez Janziz una delle fondatrici insieme a Abdullao Jalan del PKK è stata sicuramente Eval Sara il suo nome di battaglia è Sara eh è stata sicuramente una delle promotrici di ehm dell'analisi ma anche di una pratica della vita libera consapevoli del fatto che le donne possono eh anzi sono all'origine della formazione della società guardando molto molto indietro eh troviamo le nostre progenitrici no le antenate che nel neolitico hanno inventato praticamente tutti gli strumenti che hanno permesso alla all'essere umano di fare delle dei salti di ehm consapevolezza di intellettualizzazioni del mondo di eh cura della ehm del gruppo umano entro il quale socializzano tutto quanto gli strumenti eh che come per esempio il fuso per filare la lana ma che permetteva di il corpo deboli di coprire il corpo debole degli esseri umani noi siamo animali eh per qualche eh verso molto molto deboli rispetto ad altri e abbiamo bisogno di più di altri di eh dell'aspetto sociale no? Ne abbiamo bisogno per proteggersi, ne abbiamo bisogno per alimentarci, ne abbiamo bisogno per vivere, per condividere le ehm qualsiasi ehm astrazione sia qualsiasi simbolizzazione del mondo ecco e le donne anche nell'aspetto della simbolizzazione, dell'uso dei simboli sono state nel neolitico coloro che hanno iniziato la un qualche modo un riconoscimento dell'essere umano interno alla alla natura. La donna è natura, la donna mette al mondo il mondo come l'artista mette al mondo il mondo e questo è l'aspetto della creatività anche è un altro aspetto molto assai importante nella nella rivoluzione eh nella nella rivoluzione curda dico rivoluzione curda però ne limitano in qualche modo gli aspetti perché il confederalismo democratico ehm è una prospettiva che molto interessante a cui dovremmo eh tendere come soggetti perché come soggetti attivi perché eh riporta che cosa? Riporta la la dimensione politica all'interno delle relazioni. Oggi siamo in occidente soprattutto siamo ehm schiavi della eh di relazioni che sono tutt'altro che politiche le nostre relazioni sono quasi esclusivamente commerciali di tipo di scambio hanno eh sono influenzate non non sono neppure influenzate influenzate sono proprio strutturate sulla sul mercato sul capitalismo e questo inficia anche ha degli effetti molto negativi sul nostro sul nostro immaginario eh non è un caso che questo ehm che questo ehm che questo ehm elemento rivoluzionario sia nato in in Medio Oriente dove in Medio Oriente e in Kurdistan vi ho detto c'è la pianura ma ci sono anche tantissime montagne il Kurdistan eh eh in Kurdistan hanno le sorgenti non solo i tigri leofrate ma tantissimi altri fiumi quindi è ricco ma è ricco di montagne molto alte ricco di eh vegetazione ma in questa condizione di eh pseudo isolamento naturale si sono mantenuti e delle degli elementi sociali che seppur oppressi dal patriarcato familiare anche cioè interno alla famiglia ma eh verso nella la donna è riuscita a mantenere un legame con il suo passato remoto quindi una cosa vuol dire una cultura popolare di tradizioni di costumi che fanno riferimento alla donna e anche solo mh per esempio eh il pa la panificazione bisogna considerare che la panificazione il pane il forno era un luogo sacro e l'alta il primo altare è stato la la cucina quindi la donna ma in Kurdistan ha mantenuto ha saputo mantenere questa legame ancestrale con eh la sua potenzialità la sua forza certamente non poteva esprimerlo e questo è anche il motivo per cui tante donne del giovani donne kurde si sono poi ehm sono poi entrate nel movimento hanno poi scelto e stanno scegliendo di partecipare attivamente al movimento delle donne kurde perché hanno bisogno di liberarsi perché individuano sempre ancora più eh come dire lucidamente il gli elementi oppressivi che sono sì in parte dello stato nazione ma sono anche all'interno della società all'interno della famiglia il patriarcato ha strutturato una serie di eh catene che legano la la donna la escludono dalla società e questo nella società kurda ma eh è particolarmente evidente cioè molto può essere anche molto pesante io nei viaggi che ho fatto ho incontrato moltissimi giovani che mi hanno chiesto spesso di venire via no ma era un venire via per che in realtà eh era una richiesta di eh di aiuto ma nella come donna essendo una una donna occidentale e vedendo il movimento delle donne kurde come stava in quel momento lì erano metà degli anni duemila come stava lavorando nella società in Bakur nel nord del della Turchia cioè cercando di far partecipare le donne facendo cooperative di donne realizzando ehm associazioni contro la violenza dove solo le donne partecipano no quindi con un'autonomia molto eh strutturata molto strutturata quindi non solo nell'ambito militare ma soprattutto nell'ambito sociale diffusa nell'ambito sociale io ti dicevo guarda in occidente è molto è molto peggio la situazione perché non c'è tutto questo movimento di consapevolezza in occidente il femminismo eh i femminismi purtroppo hanno avuto storie diverse hanno dato un contributo negli anni settanta fondamentale che è stato anche ricepito molto da sia dal movimento delle donne kurde che da Ujalan dentro il confederalismo democratico è figlio della eh è femminista cioè la rivoluzione del confederalismo democratico è una società porta ad una società femminista una società femminista ecologica e partecipativa quindi ovviamente i femminismi le storie eh le analisi del di Maria Miss per esempio di Federici della Silvia Federici eh sono sulla eh sul proprio sulla sul portato sulla 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 pesantezza su quanto sia significativa la subordinazione della donna rispetto al capitalismo allo sviluppo del capitalismo cioè il patriarcato si è alleato con il con il capitalismo e hanno creato ancora più forti hanno radicato ancora di più le catene che tengono ferme le donne ma le donne purtroppo con il capitalismo globale veramente in tutte le parti del mondo quindi eh sono aspetti ehm quindi a queste giovani ragazze scusate che eh chiedevano in qualche modo vedendo nell'occidente una prospettiva di libertà io eh non non mi sono mai sentita di di confermare la libertà che loro percepivano in occidente perché in occidente io personalmente non mi sento libera certamente mi posso tendenzialmente vestire più o meno come voglio so che comunque quando vado in certi posti per non avere noie è bene che mi viesta come desiderano gli altri ecco e questo per limitare i danni di una possibile violenza di una possibile aggressione anche verbale perché la un aspetto che su cui dobbiamo riflettere su cui il movimento delle donne kurde lavora è proprio la l'autodifesa che non è solo quella militare ma un'autodifesa soprattutto contro gli eh gli attacchi ideologici noi siamo eh continuamente bersagliate come donne da attacchi ideologici eh perché tutta quanta la struttura che eh organizza anche la conoscenza del mondo quindi la scienza il paradigma scientifico positivista eh impregnato di violenza contro le donne prima Michelangelo ha fatto mi fa piacere che avete fatto avete dedicato approfondimenti per esempio alla al genocidio delle donne in occidente ma anche nelle colonie attraverso le la caccia alle streghe è un vero e proprio genocidio noi eh non nessuno io non mi ricordo di aver letto in un libro di storia un qualcosa sulla sulla caccia alle streghe e sono del 1970 quindi non è che ho fatto la scuola nel nel dopoguerra questo mi mi fa pensare molto mi ha fatto pensare molto quando quando ho avuto l'opportunità di fare formazioni con il movimento delle donne kurde perché le donne kurde una cosa hanno capita bene che bisogna formarsi bisogna fare autoformazione bisogna conoscere andare a analizzare la radice di questi nostri di queste nostre eh violenze subite nel corso della storia di conostre delle donne nello specifico eh non generalizzo con tutto è proprio di genere una violenza di genere strutturale sulla quale si è fondato ha preso avvio il patriarcato poi lo stato nazione ha perfezionato questa eh l'oppressione che sono due poteri a cui si è aggiunto il capitalismo come terzo potere e quindi in un triangolo che ha la forma perfetta per non in architettura il triangolo si usa no nella è la propria la forma perfetta della eh strutturalmente perfetta diciamo così semplice e perfetta e però è anche perfetta la sua oppressione no per cui la la capacità oppressiva e quindi la come scomporre questo triangolo oppressivo che vede ai vertici patriarcato capitalismo e è stato nazione ecco i femminismi occidentali spesso perdono di vista questa questa eh relazione il movimento delle donne kurde cerca di ricompattare anche i femminismi che ci sono e le varie lotte femministe su cui riportando questi temi all'attenzione delle donne perché se vogliamo ehm liberarci se vogliamo creare se vogliamo liberare le donne per creare una società veramente democratica dobbiamo rompere quel quel eh triangolo e sta a noi però la volontà di romperlo per cui dobbiamo noi metterci in gioco e allora dicono solo le donne kurde ma le donne italiane le donne eh delle città le donne delle province le donne eh il più possibile organizzate per approfondire conoscere e rompere questo schema che ci opprime ma opprime non per prime opprime non per prime come prima colonia come aveva sottolineato maria missa e come ribadisce o jalan e come eh nel movimento della donna eh nel movimento kurdo questo è ormai è diventato anche patrimonio della della società del movimento se non patrimonio della società almeno è diventato patrimonio dei compagni di lotta è cambiato qualcosa da quando si sono auto organizzate perché nel confederalismo democratico e anche in rojava eh quindi dove questo attualmente è in atto ehm la società prima di tutto pensa alla liberazione della donna cosa vuol dire praticamente oggettivamente tirarla fuori da casa ma non tirarla fuori da casa per forza è tutto un atto volontario e questo atto volontario come come viene come come cresce come come germina attraverso il dialogo la formazione l'ha messa in discussione e allora le donne kurde girano vanno casa quasi casa per casa sono andate in Bakur quindi il nord est della Turchia quando era possibile ora no perché per via dell'oppressione ma a casa per casa guardi a a parlare per cercare di ehm dare consapevolezza alle donne per condividere ciò che loro avevano eh erano riuscite a e sono riuscite a ehm a a a raggiungere come mh consapevolezza come consapevolezza di critica alla alla situazione attuale nell'ambito di questa ehm analisi il movimento delle donne ha sviluppato proprio una scienza che è chiamata geneologi è la scienza della donna ma è la scienza della vita anche perché jin jin in kurdo significa donna ma significa anche la stessa radice di jian che significa vita e quindi è un paradigma nuovo un paradigma alternativo radicalmente alternativo alla al paradigma che noi utilizziamo generalmente con cui si legge la storia dell'umanità all'interno della quale c'è la storia delle donne con una prospettiva delle donne quindi dalla prospettiva di colei del gruppo umano che è stato oppresso ma è stato oppresso eh nel momento in cui è emerso in Mesopotamia sono emersi in Mesopotamia di città stato per cui siamo nei sumeri i sumeri raccomiti i sumeri raccontano questo passaggio di di sapienza anche c'è proprio un mito sulla sulla rapina del delle delle 104 me cioè le 104 conoscenze che la donna nella divinità di ishtar incarnava ehm che le sono state rubate no da una divinità maschile la divinità che piano piano maschile che poi sostituisce la divinità la divinità femminile che era la dea cosmica una società una una religione naturale insomma ecco ecco genealogy è molto diffusa anche in Europa quindi nasce all'interno del movimento kurdo e con questo concludo poi magari andiamo alle domande eh nasce sì all'interno del movimento kurdo ma ehm nella consapevolezza che nel rendersi conto che la formazione è alla base della del cambiamento della trasformazione prima personale e poi della società perché la rivoluzione non è un giorno ma è un processo di trasformazione questo processo di trasformazione è parte dagli individui parte dalle e deve partire dalle donne per cui abbiamo una responsabilità quello di dare inizio a questo processo di trasformazione ehm e genealogy è il il modo con cui possiamo ehm praticare un processo di trasformazione prima di noi stesse e poi della società per cui quando le donne vi dicevo vanno a coinvolgere le altre sono donne che prima hanno fatto un processo di ehm di analisi di se stesse di analisi di se stesse nel senso quanto sono state eh impregnate della mentalità patriarcale quanto i comportamenti sono comportamenti autoritari e di derivazione evidentemente patriarcale eh e quindi quanti sono di potere quanti sono eh relazioni di potere è una degli aspetti molto anche psicologici e si rifà metodi di analisi di anche ehm auto organizzati è una nuova una sorta di nuova sociologia che permette di affrontare proprio i temi della eh della società democratica ehm genealogy esiste in Rojava e hanno pubblicato un interessante volume mh moher in inglese non in inglese non c'è non casuale non hanno scelto l'inglese ma hanno scelto lo spagnolo eh moher eh vida libertad eh che sarebbe donna vita libertà e ha lo slogan anche jihan jihan azadi donna vita libertà in curdo all'interno è un grosso tomo all'interno del quale però si ritrovano eh tutti i temi che affronta genealogy e anche la modalità con cui eh analizza la la storia della oppressione delle donne attraverso rifacendosi proprio dal passato remoto quindi attraverso l'analisi dei miti eh attraverso come questi raccontano della eh del cambiamento di paradigma di civiltà proprio no di concreto eh eh dalla società naturale dalle società naturali organiche a quelle delle città stato in cui l'oppressione in cui iniziano le guerre per cui come si caratterizza anche il patriarcato fin dall'inizio e lo stato la la formazione dello stato ha bisogno della eh di schiavi ma la prima schiava è stata la donna per cui lo può capire meglio quindi esistono però accademie esiste in rogian ma esistono accademie anche in Europa a Bruxelles c'è un centro importante di geneologi ci sono gruppi di geneologi eh in tutti più o meno in tutte le in Italia in eh in Spagna in Portogallo diciamo è divisa in sud Europa e nord Europa per per facilità di collegamento eh si fanno campi eh in cui ci ritroviamo eh ora con il covid evidentemente con l'emergenza della pandemia no però ehm fino a prima della del covid sì in cui in cui ci ritroviamo e è anche molto importante confrontare le esperienze diverse di donne europei che vivono eh l'influenza non tanto l'influenza proprio la struttura dello stato non è un'influenza è proprio una colonizzazione che va eh che è totale dell'essere umano perché è educazione secondo un paradigma che è quello patriarcale che è quello dello stato nazione per cui che consolida non sono poteri che che possono permettersi di essere messi in discussione ma sono poteri che vogliono eh mantenere la propria il triangolo si deve eh rafforzare ad ogni passo ad ogni eh scalino di conflitto si deve sempre rafforzare quindi nella nostra educazione dico occidentale è proprio eh fatta su questo schema per quello non si parla delle della eh delle della caccia alle streghe perché uno Bacon che eh che è stato no uno dei fondatori delle delle scienze moderne è stato anche uno dei promotori delle delle violenze sulle donne le torture sulle donne accusate di eh essere streghe di stregoneria fate sulla 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 donna potete sulla natura anzi beh come diceva sulla natura fate tutto potete fare le stesse cose che che fate sulle donne le stesse torture la natura è lì per noi per noi esseri umani maschili per noi maschi no adempiendo a quella eh ora però non ci entrerei sulla religione evitiamo ma comunque è che poi un altro tema un altro momento di rottura profonda e di ampliamento della che segnala appunto geneologi segnalano le donne in geneologi nel movimento kurdo è la religione la religione qualsiasi essa sia tutte le religioni monoteiste ehm oggetti più che oggettivizzano perché la donna è già oggetto prima ma ehm affostano ancora di più l'oggetto donna no la rendono ancora più ehm laterale alla alla società perché la società è esterna la società è maschio la donna sta è giusto deve stare da un'altra parte è privata è cosa privata dell'uomo che può esercitare su di lei quello che la società maschile esercita sulla natura semplice diciamo in modo un po' veloce però è quello anche che ci ha portato alla crisi ambientale ecologica questo processo di sfruttamento prima delle donne quindi in modo proprio ehm modo violento e poi sulla natura ed è un punto di vista condiviso anche peraltro dalle eh dalla voce delle ora sempre di più ci sono indigene donne e uomini anche peraltro che dalla posizione eh di sopravvissuti quasi a genocidi anche loro con la scoperta delle americhe per esempio no quindi popoli indigeni completamente distrutti completamente ehm una civiltà anzi più civiltà semplicemente distrutte ma che oggi sono possono esprimere la loro visione e da queste visioni è evidente la la critica la necessità di distacco dalla nostra civiltà occidentale che è stata eh diciamo la causa che è tuttora la causa del del disastro ambientale per cui se vogliamo il movimento delle donne kurde dice se vogliamo risolvere problemi un po' come bookchin se vogliamo risolvere i problemi della biosfera del nostro pianeta dobbiamo abbandonare questo sistema patriarcale questo sistema che è soltanto un sistema di potere il capitalismo non è un sistema economico perché l'economia è altro questo sostengono le donne e o jalan eh perché è l'economia nell'economia le donne sono capaci ehm di hanno dimostrato di essere capaci di creare soluzioni di dare soluzioni di dare soluzioni anche creative e non solo le donne in rogiava eh la società in cui le donne hanno la propria autonomia ma che sempre le donne hanno una propria autonomia ma lavorano sempre anche nelle strutture miste per cui è importante molto importante che le donne siano anche nelle strutture miste eh però eh in questo modo che riescono almeno ad immaginare una società ecologica perché ovviamente in rogiava eh 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 rogiava è sott'embargo ehm attaccata dalla Turchia e vive in una condizione occupa è occupata in parte dalla Turchia quindi evidentemente il tema della della sua difesa è un tema è il tema dominante però tutto ciò che stanno eh costruendo è nel nel fiume della società democratica in quello che ojalan definisce il fiume della società democratica che dal neolitico ad oggi non ha è come un fiume decarsico che ogni tanto appare e ogni tanto scompare ma non riescono mai a debellarlo ecco io concluderei qui e se ci sono delle domande ehm trago bene io eh allora ti ringrazio poi per le domande magari passiamo sull'altra eh piattaforma però eh parlando intanto ti ringrazio per la eh per la chiarissima conferenza che hai fatto eh sicuramente hai toccato degli argomenti molto importanti e eh quello che mi viene mi è venuto in mente ovviamente eh passando cioè vedendo ascoltando i tuoi discorsi è come ad esempio il primo punto del manifesto di intenti dell'UAR non sia semplicemente una cosa eh italiana ma sia mondiale perché noi nel nel primo proprio noi il manifesto di intenti UAR inizia dicendo in un paese migliore un'associazione come l'UAR non dovrebbe nemmeno esistere questo significa che eh sia in un paese migliore come l'Italia atei agnostici e omosessuali eh qualsiasi situazione dovrebbero assolutamente avere i loro diritti riconosciuti eh quindi non dovremmo neanche esistere un'associazione come la nostra che perché debba combattere perché vengono riconosciuti certi diritti a certe purtroppo minoranze come noi siamo una minoranza come atei e agnostici anche se siamo oltre una decina di milioni una ricerca fatta dalla dalla CEI non da noi e siamo il 16% della popolazione italiana si dichiara non appartenente ad alcuna religione e siamo tanti eh poi che siano atei o che siano agnosti o che abbiano una visione diciamo eh personale privata della religione della religiosità quello nato discorso però il 16% si dichiara non appartenente ad alcuna religione e volevo eh volevo eh prendere spunto da questa da questa eh da quest'ultima cosa per segnalare due cose no? Allora la prima eh parlando appunto come dicevi te di la libertà delle donne in occidente non è poi tutta quella libertà di cui eh si parla no? Mentre ovviamente siamo in una situazione senz'altro migliore rispetto a quello che succede in certi paesi del Medio Oriente oppure eh in paesi insomma del nel Rojava eccetera però anche qui da noi non è che sia tutto oro tant'è che eh siamo partiti proprio in questi giorni con una campagna nazionale UAR eh che parla appunto dell'aborto farmacologico una conquista da difendere sappiamo benissimo come una conquista della donna e che è stata quella della pillola RU 486 sia stata poi venga assolutamente eh diciamo limitata dai 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 consultori dalle dall'obiezione incoscienza dei ginecologi insomma da tante situazioni per cui serve una campagna UAR anche per questo per questo tipo di argomento una campagna che qui mi ricollego a quello che hai detto tu eh che ho trovato e che mi pare che eh termini in questi giorni della rete GIN cento eh cento motivi per perseguire il dittatore eh per perseguire il dittatore. Ecco una campagna di cui mi sono eh ho letto qualche quattro diciamo piccoli spunti eh che mi pare che che è iniziata alla fine del mese di febbraio e termina proprio oggi è una raccolta di firme proprio eh dalla rete GIN che è la rete appunto delle donne kurde per eh raccolta di una petizione contro dittatore o c'ha la contro dietro dittatore no Erdogan no Erdogan sì scusami infatti non è stato un lapso eh ma i nomi non sono mio forte comunque contro dittatore e eh naturalmente è una raccolta di firme al ha il valore che ha ma comunque un supporto che il che diciamo l'umanità può dare a queste donne che combattono come dicevi te per la loro libertà per i loro diritti e mai mai come una confederalismo democratico come ce l'ha indicato con la libertà di religione e la libertà dalla religione perché è una cosa che anche noi notiamo sempre perché si parla di libertà di religione ognuno possa professare la sua regione però ricordiamocelo ci sono paesi nel mondo dove essere ateici e condannati a morte quindi non è magari essere cattolici o i musulmani o ebrei insomma hanno delle delle pene diciamo diverse malato e condannato a morte e questo insomma quindi anche la libertà anche dalla religione eh e dovrebbe essere fondamentale se vuoi dire veramente due parole su questo che su questa magari campagna della rete GIN e poi magari passiamo di poi chiudiamo la diretta Facebook perché siamo quasi su arrivati all'ora di trasmissione e andiamo a vedere se c'è qualche domanda passiamo sull'altra piattaforma. Sì infatti scusa ti ringrazio della eh di aver citato la raccolta fondi la raccolta firme che finisce oggi è promossa proprio dal movimento delle donne kurde come RTG in Italia abbiamo fatto la stiamo promu l'abbiamo promossa oggi è l'ultimo giorno potete è cento ragioni per e sono cento donne uccise e quindi ci sono anche le storie delle donne uccise da Erdogan e potete trovare su internet proprio scrivendo il numero cento cento ragioni e vi invito a firmarla e c'è anche un'altra raccolta firme per Hojalan eh perché il momento è arrivato per la libertà di Hojalan e anche questo sarebbe importante però quella sicuramente quella che finisce oggi ehm è è importante perché è significativa perché l'intento è quello di portarla a insomma all'opinione non solo l'opinione pubblica ma anche denunciare in qualche modo la agli organi internazionali eh per i diritti umani ehm la politica di Erdogan femminicida proprio femminicida di Erdogan per cui vi invito se c'è il modo di mandare il link vi mando il link magari vediamo eh questo perché è in inglese probabilmente trovate la pagina in inglese ora vi do metto lì il link in chat eh trovo la pagina appunto in inglese però basta cercare veramente cento motivi per perseguire il dittatore si trova immediatamente dove andare a firmare e invito caldamente a firmare sì invito anch'io che proprio perché oggi finisce prima di andare a letto ricordiamo io vabbè ho firmato ovviamente però sì e comunque è una campagna internazionale che ReteGin è la rete in solidarietà per essere un po' precisa è la rete delle donne o comunque individualità per uscire un po' dal binarismo della definizione eh italiane in solidarietà al movimento delle donne kurde però in Italia questa è a livello internazionale ed è stata promossa da esistono diversi cioè c'è Woman Defender Rojava insomma ci sono diversi ehm gruppi organizzati di donne che fanno riferimento al movimento delle donne kurde che portano avanti eh sia la eh diciamo la la diffusione delle idee e anche di questo tipo di azioni che sono azioni diciamo importanti per perché ci possiamo permetterci di farle ecco una firma infatti non è non è difficile insomma non ci occupa troppo tempo è semplicissime ah nel quando firmate però dovete eh rispondere anche alla mail per confermare la la vostra firma se no non viene accettato va bene allora eh noi chiudiamo la diretta qui ringraziamo Fabiana ci eh continuiamo quel eh con qualche domanda se ci sarà nella piattaforma meta la quale eh sulla quale avete avuto il link per potervi collegare eh per dialogare appunto con la nostra relatrice ringrazio e seguite l'attività della sulla nostra pagina che ci siamo facciamo sempre tante belle attività grazie a tutti e passiamo su altra linea